E dato che l'inverno è lungo e grigio, Elisabetta Franchi ci aiuta con un tocco di colore, un tocco di vivacità su questa gonna che è scintillante, grazie all'inserto a doppia catena, molto bello solo nella parte frontale. Poi abbiamo un colore Federica molto caldo, un colore salmone luminoso, sembra quasi che ci sia un richiamo, il calore che viene dalla catena, questo richiamo dorato che va a riverberarsi anche sulla gonna, la linea molto pulita. Mi piace anche questo dettaglio, ti dirò, che si vede soltanto da vicino, è molto carino, del loghino, il marchio e si può fra l'altro togliere, per cui potrebbe diventare, perché no, anche un simpatico forza chiave. Ti chiedo la cortesia di girarti, qui abbiamo una bella zip lunga, quindi andiamo ad aiutare l'indosso perché poi la gonna si conforma proprio alle curve del nostro corpo, ci va ad avvolgere grazie a una piccola percentuale di elastana, stiamo parlando di una mistolana, con una consistenza però molto leggera, morbida, delicata, leggermente svasata con una fodera tono su tono sotto che va, come dire, anche a far scivolare meglio la parte superiore. seguiteci su Instagram e Facebook.